Un brivido sulla schiena dell'Inter al terzo minuto, chiaramente il passivo è netto, però se un rimpianto c'è è proprio con l'occasione fallita da Verdi, magari la partita avrebbe potuto assumere dei contorni diversi e poi le chiedo un parere anche sullo stato psicologico, perché va bene perdere, ci sta sul campo di una grandissima squadra come l'Inter, però un conto è farlo 1-2, anche 3-0, l'altro è praticamente bissare lo stesso punteggio dell'andata, in un momento in cui a Salerno c'è un humus di entusiasmo che lei ha toccato con mano, questo passivo pesante rischia di abbatterlo? Ma non scherziamo neanche, nel senso che per la gente giustamente magari che sono venuti in 6.000 e di questo siamo veramente orgogliosi, l'unico rimpianto è legato al fatto che noi vogliamo dare alla nostra gente delle soddisfazioni, più soddisfazioni possibili, però io a fine partita l'ho detto ai ragazzi, loro credo abbiano visto la mia coerenza, io so benissimo dove sono venuto, so benissimo la marea di punti che dobbiamo fare e so benissimo che per fare questa marea di punti tu devi acquisire una certa mentalità. Io non c'ero all'andata, ma stasera la Salernitana ha perso in maniera netta, ma non ha mai perso la dignità di voler comunque provare a farcela e sarebbe interessante sicuramente, sarebbe stato interessante sicuramente poter andare in vantaggio per vedere come si sarebbero messe anche la partita, non sarebbero cambiate le difficoltà sicuramente, però stavi secondo me facendo 20 minuti veramente importanti con la voglia di andare a aggredire l'avversario, una squadra che è in una posizione classifica non per caso, che stasera ha sbagliato davvero poco e forse noi stasera abbiamo fatto le cose che abbiamo fatto nelle precedenti due partite, ma con non quella cazzima importante, nei due gli individuali sono stati persi per bravura dell'avversario, perché bisogna anche mettere anche quello, ma anche per, secondo me noi potevamo fare meglio, la lettura di una linea difensiva alta è stata progressivamente nei gol subiti quasi in fotocopia, quindi non c'è stata una lettura sicuramente su palla scoperta, guadagnando la possibilità di scappare per arrivare in vantaggio sull'avversario, ma spesso volentieri con palla scoperta magari tenendola ferma e questo quando la linea difensiva è ferma è una linea difensiva morta, perché se il passaggio arriva a tempo e nel modo giusto, nel tempo giusto difficilmente riesce a recuperare. Sono contento però, come in tutte vittorie o pareggio, grandi prestazioni, non è che le cose vadano tutte bene e stasera non è che le cose vadano tutte male, perché se avessero fatto o avessero avuto un comportamento diverso da quello che abbiamo preparato, cioè quindi la voglia di andarsi a giocare la partita, di aggredirli alti, di poter recuperare palla velocemente, di poterla gestire prima di trovare gli spazi di attacco alla loro linea, allora sarei preoccupato o sarei deluso, ma io non ho visto questo, ho visto una squadra che ci ha provato, che ha sbagliato sicuramente, che può essere ancora migliore nell'ardore con cui affronta le cose, che poteva gestire la palla in alcuni momenti in maniera differente, però non ho visto una squadra rendevole, non ho visto una squadra che non ci ha creduto, anche nel secondo gol che abbiamo subito alla fine del primo tempo, quello forse ci ha dato un po' di fastidio, però siamo rientrati e se avete visto nel secondo tempo siamo usciti impattando di nuovo la partita come avevamo cercato di fare nei primi 20 minuti, poi sicuramente il terzo e il quarto gol ti hanno portato a disunirti, a perdere quella compattezza, ma non l'accetto, questo io non l'accetto, perché bisogna avere la capacità di stare sempre sul pezzo, di non essere schiavi delle emozioni per il risultato che stai acquisendo in campo e perché questo è l'unico modo che abbiamo per poterci preparare a vincere più partite possibili, questa è la missione, qua non prendo in giro nessuno, sono convinto e straconvinto che la mentalità debba essere questa, ma dobbiamo sicuramente fare le cose meglio di stasera, nelle prime due partite ce l'abbiamo fatta, devo dire la verità, stasera forse a tratti siamo stati, abbiamo peccato in alcune situazioni, però è anche vero che per me era la prima partita fuori casa, era importante per me avere la curiosità di vedere come si apporciava in uno stadio importante come questo contro una grande squadra e ti dico che le cose non sono tutte da buttare, però voglio lavorare con lo stesso identico entusiasmo perché tanto la nostra gente che ha una passione incredibile e un'intelligenza incredibile sa benissimo che le cose sono difficili, ma non avrebbe mai accettato di venire su questo campo a guardare gli altri giocare. Roberto Trucilo, Corriere di Salerno, volevo chiederle un parere sul reparto difensivo, in particolare sui due centrali difensivi, chiaro stasera avevano di fronte Lautaro Martinez, Dzeko, però anche nelle precedenti partite forse l'affiatamento fra i due centrali non è ancora al meglio, insomma mi sembra che prendiamo dei gol in quel reparto. Io comprendo la considerazione che ha fatto e per certi versi stasera può essere anche... Fatta perché in realtà sono due nuovi che sono stati acquistati proprio per andare a rinforzare quella zona del campo che forse era un po' carente. Sì, però ripeto, secondo me stasera la bravura degli avversari ha determinato anche alcuni nostri errori, ma è indubbio che dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare non solo le due centrali, quando si subisce gol non è la linea difensiva, diciamo che sulla linea difensiva si verifica l'ultimo errore, in realtà è partito almeno 4-5 errori precedenti, o perché si è arrivato male a gestire una pressione o perché non si è canalizzato bene il corridoio in cui tu poi devi lavorare di catena per arrivare sugli appoggi e sicuramente per ultimo ci possono essere dei duelli magari individuali persi, delle letture che non sono propriamente corrette. Però io non voglio preoccuparmi degli errori, cioè gli errori io li accetto perché so che poi col lavoro nel tempo tu vai a migliorare e a progredire. Quello che non accetto è che noi possiamo modificare il nostro entusiasmo in funzione di una partita o di un'altra, perché tanto siamo consapevoli tutti che bisogna fare qualcosa di importante e per farlo io di questo ne ho assoluta certezza, non possiamo farlo che giocare in modo da sentirci capaci, che giocare in modo da proporre gioco ed essere maledettamente aggressivi. Sbaglieremo sicuramente, sbaglieremo, 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 ma alla fine arriveremo a rappresentare quello che vogliamo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ripresa allenamenti, dunque oggi è sabato, lunedì, lunedì che i ragazzi in queste tre settimane tra l'altro per me è importante riconoscerlo, io vedo gente applicata, vedo gente immersa in quello che stiamo cercando di fare, adesso lo stacco e si riparte con lo stesso entusiasmo, non permetterò a nessuno di quelli che mi circondano nel lavoro di non avere un entusiasmo, perché è l'unico modo che abbiamo per poter progredire nella nostra strada. Grazie.